Siamo contro una squadra bella forte, ci separano tanti punti in classifica, siamo anche pochi quindi cerchiamo di contenere e di allenarci per la Coppa, visto che sarà un bel allenamento spero che le squadre della Coppa siano un livello un po' più basso perché questo girone era abbastanza tosto. Abbiamo perso l'ultima partita abbastanza malamente, non eravamo tutti, ma noi siamo concentrati perché dobbiamo comunque consolidare questo secondo posto che è ancora in dubbio e quindi oggi conta solo vincere e per questo dobbiamo ritrovare un po' il gioco e soprattutto il gol che ci è venuto un po' a mancare in questa seconda parte del torneo. E niente, poi per la seconda parte proveremo ad essere il più cattivo possibile e vincerle tutte e provare ad arrivarsene in fondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Secondo me abbiamo buone aspettative e cercheremo di vincere per essere qualificati per la Coppa come i primi e niente, li abbiamo già parreggiato e secondo me potremmo vincere stasera. vogliamo confermarci della prestazione della scorsa partita, dimostrare che comunque il nostro lo sappiamo fare, contenti per la qualificazione perché è un buon traguardo, ma stasera penso che vinceremo abbastanza facile. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!